Milano dall'oggetto, c'è questo sì, perché no, non si può, ma perché? Arrivo a Milano dall'oggetto, prendo il bus, perché no, non si può, ma perché? Arrivo a Milano dall'oggetto, c'è questo sì, perché no, non si può, ma perché no, non si può, ma perché no, non si può. Sai, canta con noi. Un ciotto come c'è, è il ciotto presidente. Non si sta, un mecánico. Non si sta, un ciotto come c'è. Non si sta, un cappetto in genga. Non si sta, certo un vecino. Non si sta, certo un apriosh. Non si sta, troppo un appagas. Non si sta, canta una tolla. E' un ciotto come ciotero. Non si stia, non si stia, non si stia, non si stia. Lo trago nel falcón. Grazie a tutti.